E' l'ennesimo inutile capitolo di One Piece, ehi Ciro Oda, anche basta, non ne possiamo più, che rottura di palle, io lo so che vi siete triggerati di nuovo, so che non ne potete più, so che dal vostro punto di vista Oda allunga il brodo, annacqua, non ce la fate più, Oda anche basta, siamo arrivati alla fine di One Piece, so benissimo che volete sfogare la vostra rabbia nei confronti di quest'opera quasi trentennale, che non vuole accennare a concludersi, e allora sapete che c'è, fatelo, qui sotto nei commenti, sfogatevi, ne avete facoltà, però mentre vi incazzate nei confronti dell'ennesimo inutile, lungo, annacquato capitolo di One Piece, magari iscrivetevi al canale se ancora non l'avete mai fatto, mettete un bel mi piace, attivate la famigerata campanella per far assurgere questo umile canale nell'empireo del nulla, ormai lo sapete, però ecco, iscrivetevi, perché io continuo a dirvi questa cosa, incredibilmente non riusciamo ad abbattere questo muro invalicabile, oltre che mulo, forse, perché il 40% di voi che ritornano a vedere i video miei non sono iscritti al canale, iscriversi è gratuito, iscrivetevi, fatelo, così non vi perdete niente, e siamo tutti più contenti, e triggeratevi, o forse non triggeratevi, ma nel farlo ascoltiamo tutti insieme la sigla e poi ci immergiamo perché dobbiamo raccontarci un po' di cose, ecco in questo capitolo, pronti? Sigla! Dicevo, nel corso della blind reading reaction, di cui trovate il link, qui sotto in descrizione, che se avessi dovuto dare, o se dovessi dare un titolo anche a questo contenuto, così di botto, senza senso, senza neanche pensarci, probabilmente direi che questo è stato un capitolo stupido. Il 1129 di One Piece è stupido, ma stupido non per ciò che potreste pensare voi nel momento in cui io proferisco questo termine. Penso che il 1129 sia stato stupido, ed è stupido, per la stupidità del protagonista, del dio sole, Rod, perché a conti fatti, le azioni dello sgherro dell'amichetto di Ashruddin, sono veramente idiote. Lui agisce come un fesso, come un fessacchiotto, è proprio scemo. Pensateci, in questo capitolo ci viene rivelato che Rod sa benissimo chi sono i Mugiwara. La sua consapevolezza nei confronti dei pirati di cappello di paglia è anche abbastanza tenera, perché provatevi a mettervi nei panni di un gigante che pensa di poter imbrigliare la ciurma di uno dei pirati più potenti del mondo di One Piece e pensare addirittura non solo di poterli controllare, ma di farla franca. Perciò è un capitolo stupido, perché è stupido il protagonista. Bisogna essere veramente degli ottimisti per sapere benissimo chi sono oggi i Mugiwara, l'imperatore Luffy, cappello di paglia, tra l'altro anche il loro dio, il suo dio, la sua divinità, il suo vero dio del sole, e pensare che non avrebbero fatto assolutamente niente di niente per non fuggire dal mondo della sponsorizzazione dei Lego. È veramente molto naif questo Rod, però c'è anche da dire che secondo me, nonostante questa sua inettitudine, anche gioiosa sotto molti punti di vista, io ho trovato questo capitolo 1129 e questo comportamento stupido, continuo a ribadirlo, di Rod, comunque molto affascinante, però credo che qui sia una questione soprattutto personale e soggettiva. Ora, noi non sappiamo assolutamente niente di Rod come personaggio, di nuovo sappiamo solo che è uno degli alleati, ecco di Ashruddin, fa parte della sua stessa ciurma, ma noi non conosciamo i trascorsi di questo personaggio, non sappiamo assolutissimamente niente di lui. Lo abbiamo visto solamente in una mini avventura ai tempi, boh credo fosse capitolo 898, una roba del genere, e probabilmente era presente a O'Hara quando Dragon e Vegapunk parlavano, perché probabilmente non ve lo ricordate, ma i giganti che tirano su i famigerati libri presenti all'interno del lago di O'Hara sono proprio Ashruddin e i suoi amichetti, quindi lui probabilmente c'era, non sappiamo neanche il vero motivo di Unastio nei confronti di Ashruddin, al di là di quello che può essere comunque la stizza dell'aver accettato di far parte della flotta dei pirati di cappello di paglia, senza però consultare nessuno di loro. Quindi questo Rod sembra risentito perché dal suo punto di vista, ed è anche interessante psicologicamente parlando, perché Oda ci ha mostrato ormai che la fierezza dei giganti sta nella presunzione di essere sempre più potenti, quindi il fatto che Ashruddin pensa di far parte del novero dei giganti più forti del mondo, gli dà comunque già una caratterizzazione molto peculiare, e quindi lui chiaramente non vuole e non può mettersi al servizio di degli umani così piccoli, fragili, deboli, li schernisce per quel motivo, però la cosa che forse è veramente, ecco, di nuovo affascinante, è il fatto che lui abbia proiettato la sua vita nell'escapismo di quello che è un GDR, è un gioco di ruolo, non a caso, no? Il capitolo scorso così si chiamava, gioco di ruolo, e io trovo veramente peculiare il fatto che questo gigante veda in questo diorama fatto di Lego, che lui ha costruito probabilmente nel corso degli anni, in cui ci ha investito una marea di soldi, una marea di tempo, un vero e proprio mondo GDR dove accadono le cose in tempo reale, e lui non solo parli e si senta come un dungeon master, per esempio nel capitolo si dice che lui sembri parlare come un samurai di Wano, quindi parla in maniera aulica, parla in maniera barocca, ricercata, perché deve fare il dungeon master e quello che ha il mondo sotto controllo, sotto i suoi occhi, ma che in qualità di dio sole, che tutto sa e tutto conosce e tutto provvede, diventa anche a un certo punto un esperto di storytelling. Ecco, questa è la cosa che ho adorato veramente tanto di questo capitolo. Lui che a un certo punto comincia a fare dissertazioni sullo sviluppo dei personaggi, sul fatto che per avere dei personaggi credibili questi stessi personaggi devono passare attraverso privazioni, attraverso momenti dolorosi, altrimenti non c'è sviluppo, il fatto che davanti ai suoi occhi si stia disvelando una sorta di leggenda dove il male sorge da un lato e dall'altra parte, invece ci sono i paladini che naturalmente proteggeranno tutti e tutti, è particolare, ma sapete perché è particolare? Perché io sono veramente curioso, poi magari alle persone in realtà una roba del genere non interessa neanche per sbaglio, io me ne rendo conto, questo è un discorso che dovremmo affrontare prima o poi, però in quella che è comunque una tela, un affresco gigantesco, ormai One Piece davvero ha raggiunto le dimensioni gargantuesche del mito, dell'epica, il fatto che Oda inserisca un personaggio come Rod in questo momento è particolare, perché io vorrei capire, vorrei sapere le motivazioni di un personaggio così, c'è anche solo il fatto di immaginarmi che, da quello che sappiamo, Ajrudin e Giganti erano i personaggi che facevano guadagnare di più, la Buggy Delivery, erano quelli che portavano più soldi e che quindi dalle scorribande di Buggy ci sia stato il finanziamento di quei Lego, di quel Lego, di quel diorama, sono piccolezze, però sono quelle piccolezze che secondo me rendono poi vivo, variegato il mondo di One Piece, quasi poi come se tutto questo discorso fosse anche metanarrativo in qualche modo, però io vorrei, vorrei, spererei che Oda ci desse delle motivazioni per cui questo personaggio che è stato affiliato a un flottaro, che adesso è affiliato comunque volente o nolente alla ciurma di un imperatore, si comporti in questo modo fino davvero a rispecchiare la sua vita in quello che è un escapismo duro e puro di un gioco di ruolo. Io vorrei sapere perché, non so voi, però io vorrei sapere perché Ashruddin ha creato dentro casa sua questo diorama dell'ego, mettendoci delle persone, perché lui dice sì, questa è una prigione, ma perché lui agisce così? Io non lo so, spero che Oda ce lo racconti, però, al netto di questo egoismo mio, personale, nel volerne sapere di più, la provocazione con cui abbiamo aperto questo capitolo è che probabilmente avrà nel titolo, ovvero capitolo inutile, non succede niente, Oda basta che palle, perché io comunque, nonostante tutto, cerco di mettermi nei panni di chi One Piece ormai lo legge anche per inerzia e quindi non so per quale motivo in questo caso il lettore che One Piece lo legge per inerzia spererebbe sempre che da un capitolo all'altro in sole 18 pagine ci potrebbe ritrovare tutti i miei segreti, tutti i misteri, tutte le cose insolute così spiattellate, perché è quello che poi mi capita di leggere spesso, ma la cosa che mi preme farvi soffermare veramente con questo capitolo che probabilmente tutti hanno odiato è non solo la funzione del 1129 tecnica di narrativa, ma farvela inserire nel novero di questi primi tre capitoli di Elbaf per farvi meglio comprendere quello che potrebbe a questo punto essere una visione di lunga durata, anche tenendo conto di ciò che è stato Eged, perché poi in questo capitolo è proprio limpido nell'esplicare questa cosa, noi abbiamo lasciato Eged con Dory, Brogy, Oimo e Karsi, quindi la vecchia ciurma dei pirati giganti che sono andati a salvare Luffy e i suoi Mugiwara, fino addirittura a scortarli a Elbaf. E Eged tra le tante cose si conclude anche con quella figura misteriosa che attende i Mugiwara proprio su Elbaf dicendo venitevi aspetto. Ora, io penso questo, ed è il mio pensiero, se Ichiroda come scrittore, come narratore, come fumettista, avesse fatto arrivare subito immediatamente i Mugiwara e i giganti su Elbaf, così debotto senza senso letteralmente da un capitolo all'altro, io penso che forse avrebbe anche fatto un po' scemare quello che è l'impatto meramente emotivo del lettore e che il lettore potrebbe provare quando si ritroverà davanti quello che è comunque uno dei momenti forse più attesi dell'intero One Piece. Da quanto tempo parliamo di Elbaf, dell'arrivare ad Elbaf, chissà come sarà Elbaf, chissà se Oda Elbaf un giorno ce la farà vedere. E Oda ci ha promesso adesso che Elbaf ce la fa vedere, probabilmente siamo già su Elbaf, e quindi l'hype ora monta veramente per vedere una volta per tutte quest'isola, questo villaggio dei giganti. Per cui, secondo me, il prendersela anche un attimo con comodo, quindi dedicare questi tre capitoli iniziali, ecco, con questo mondo fantastico, con questo GDR, con i Lego, disorientare un attimo il lettore con un qualcosa che non si sarebbe comunque aspettato. E sì, sono d'accordo, strecciare, allungare ancora una volta un pelo la narrazione, io però la valuto in questo senso, in quest'ottica più generale. Tanto arrivati al capitolo 1129, se Elbaf te la fa vedere nel capitolo 1130, o nel capitolo 1133, per dire, non cambia più niente ormai. Quindi forse è meglio prendere ancora un po' in giro il lettore per fargli venire il desiderio di vedere finalmente questa cosa tanto attesa, piuttosto che magari sbattergliela in faccia, così debotto, senza senso, perché si deve fare, assolutissimamente. Di nuovo, io la vedo così e magari sbaglio, eh. Sono poi curioso di sapere la vostra. E soprattutto, soprattutto, questa soluzione narrativa, con questo personaggio estremamente stupido, che parla come un dungeon master, che insomma pensa di essere il nuovo maestro dello storytelling, addirittura forse per il momento, vedendo anche come si conclude questo capitolo 1129, mi rilassa un po'. Sono un po' più tranquillo. Perché mi sembra evidente, quello che abbiamo anche accennato un pochino prima, e poi di nuovo lo dice il capitolo stesso, che tutti sanno, tutti su Elbaf sanno, che Dori e Broggy, e Oimo e Karsi, e tutta la ciurma, dei giganti, pirata, sono andati su Eged, a riprendere Mugiwara, e portarli sani e salvi, su Elbaf. E noi dobbiamo tenere conto che quello, non è Luffy e i suoi amichetti, non erano solo amichetti dei giganti, ma oggi come oggi, Luffy è il dio di Elbaf, è Nika, è il dio del sole, è un qualcosa che per loro è veramente sacro, e come abbiamo raccontato anche nei video precedenti, secondo me, non ci poteva, e assolutamente non ci può, essere un villain classico, canonico, come siamo sempre abituati a vedere, in questa saga, non avrebbe il minimo senso, non avrebbe senso, lo ridico di nuovo, che da un giorno all'altro, uno come il famigerato Principe Loki, impazzisse perché sì. Quindi, secondo me, con questi tre capitoli, e anche con questa risoluzione, abbastanza sfiziosa, sì, alla fine era Rod, è come se forse Oda si fosse elevato, dalle scatole, il fatto anche di doverci mostrare, un avversario, per quanto fasullo, per quanto fake, esso fosse, e quindi magari adesso, si può veramente concentrare, su una saga, che io personalmente spero, possa essere la più corta, più compatta possibile, ma che magari, possa anche essere, piena di ciccia, di succo, e di rivelazioni, un po' come è stata Zo, Zo è stata una delle saghe più brevi, di One Piece, durata un paio di volumi, scarsi nemmeno, ma sono due volumi, pregni, tra i più pregni di tutto One Piece, e quindi io mi auguro, che Elbaf, adesso, che loro sono scappati, da questo diorama, del mondo dei Lego, possa portare, non solo, a una sponsorizzazione, tra Oda, One Piece, ed effettivamente Lego, secondo me avverrà, chi lo sa, vedremo, ma insomma, sarebbero stupiti a non farla, l'hanno fatta con l'Alacost, l'Alacost, l'ho già raccontato, ma la riracconto, se vi ricordate, nella cover del capitolo 1106, c'era questa, Nico Robin, davanti a questo coccodrillo, che indossava una maglia, con sopra scritto, La Costa, e il marchio di quella maglia, indossata da un coccodrillo, era chiaramente, un coccodrillo stilizzato, che strezzava l'occhio, all'Alacost, e, l'Alacost, ha visto, quella cover, del capitolo 1106, di One Piece, credo, fosse il 1106, di One Piece, ha chiamato, ha preso il telefono, ha chiamato Shueisha, ha detto, oh ma voi, volete fare una sponsorizzazione, insieme a noi, noi l'abbiamo visto, noi l'abbiamo apprezzato, grazie per l'omaggio, ma se la facciamo, quella maglia che nel manga è La Costa, noi la trasformiamo in La Costa, e quindi hanno fatto la sponsorizzazione vera, One Piece per La Costa, secondo me, se qualcuno della Lego, vede una roba del genere, sarebbe fesso, a non prendere la palla al balzo, ma non perché la Lego, abbia bisogno di One Piece, o perché One Piece, abbia bisogno della Lego, però, questa, cross medialità, alle volte, è interessante, non solo da vedere, da fan, ma anche da, da studioso del fenomeno, ecco, però io mi auguro, che oltre questa sponsorizzazione, che magari, prima o poi vedremo, noi arriveremo anche, a, eh, vedere una saga, veloce, immediata, che ci possa dare, delle soddisfazioni da lettori, che non ci faccia perdere, quattro anni, nello stesso posto, ma non perché noi, non vorremmo perdere, quattro anni, insieme ai nostri pirati preferiti, ma perché, nonostante tutto, credo che sia giunta l'ora, di arrivare a quagliare, con questo fumetto, proprio per non sentirsi, dire ogni volta, ogni settimana, quello che in realtà, gli hater, o quelli che leggono male, One Piece, dicono da vent'anni a questa parte, ovvero che ad ogni capitolo, fosse anche il migliore, di tutti i tempi, è capitolo inutile, non serve a niente, o da lunga, in acqua, stretcia, o da basta, rotti i coglioni, eccetera, 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 però, sono curioso, di sapere la vostra, fatemi sapere, voi, che cosa, ne pensate, lasciandomi, il sempiterno commentino, qui sotto, su YouTube, oppure, sulla mia pagina Instagram, su Mobut, intanto lo so, che anche qui, ormai, è una questione persa, farvi iscrivere al canale, farvi iscrivere a Instagram, o farmi comprare il libro mio, momento marchettone, sono quasi passati sei mesi, dall'uscita del mio libro, l'avete preso? la risposta è no, di qui dentro parlo anche di One Piece, tra le altre cose, giustamente, l'ultimo capitolo è dedicato a One Piece, ma voi, non avete supportato, questo lavoro, nonostante questo, vorrei dire che vi voglio bene, ma sarebbe una bugia, no, si scherza, vi voglio bene lo stesso, fatemi sapere, e se siete arrivati alla fine di questo video, hashtag, io non ho comprato il libro, così, e chi non l'ha fatto davvero, l'hashtag, io non ho comprato davvero il libro, così lo so, alla prossima, ciao.